Il Papa strizzasse bene le guance di bambini. I miei libri non hanno l'intento di colpire la Chiesa, non hanno l'intento di colpire il Papa, hanno l'ambizione di fare un po' di cronica sulle finanze del Vaticano e su una situazione che è drammatica. Perché quello che ha scoperto Papa Francesco è una situazione drammatica. Che tra l'altro lavori in corso, non ho scoperto, ma nel tuo stesso libro emerge che alcune cose ancora non sono sapete fuori. Magari raccontaci un po'. Ma questo Papa sembra molto solo leggendo il tuo libro. Ma il Papa fondamentalmente... Il Papa quando arriva, arriva in una situazione straordinaria per la nostra Chiesa. Tu parli di due rivoluzioni, no? C'è la rivoluzione di Ratzinger, che comunque rivoluzione a forma rivoluzione e la seconda rivoluzione di Francesco. Io credo che non ci sia Papa più rivoluzionario di Benedetto XVI.